Il 13 dicembre a Bergamo c'è il concerto di Natale con il quale si sostiene il progetto Abita la Stella, dal centro missionario di Cesano, giusto? Giustissimo, allora siamo a Sant'Alessandro in Colonna nella Basilica alle ore 21, il 13 dicembre appunto ci sarà il concerto con una serie di 100 giovani che suonano e che cantano, quindi piccoli musici di casazza una parte dei piccoli musici, l'orchestra giovanile di Domodossola diretta dal mestro Serazzi e l'ensemble di fiati del conservatorio nostro Donizetti. Ecco il 13 dicembre è fra poco quindi ci sono ancora gli ultimi biglietti, non è un concerto a pagamento ma il biglietto viene dato su un'offerta ai tre progetti che il progetto, la campagna di Natale Abita la Stella quest'anno sta promuovendo. Ecco poi c'è la premiazione, quindi c'è il premio. Che è un premio che ogni anno il Vescovo dà a due, tre missionari che si sono distinti o per la loro lunga vita in missione o per il lavoro in missione oppure per qualche opera particolare che hanno svolto all'interno del loro servizio. Quest'anno ci sono tre premiati bergamaschi ovviamente, sono padre Giuseppe Rinaldi, Saveriano, suor Margherita che tristemente nota la cronaca perché appunto è deceduta in un incidente stradale in Malawi a settembre, all'inizio di settembre e padre Cassera, colui bergamasco, è stato parroco qui per alcuni anni e poi si è trasferito a vivere e a sperimentare e a evangelizzare in Algeria. E poi si può sostenere il progetto anche in diversi modi, ricordiamo alcuni. Sì, allora tutte le scuole di ogni ordine e grado possono fare il loro elaborato sul tema della casa, sul tema dell'abitare e spedirlo al centro missionario sia fisicamente sia per email, c'è ancora qualche giorno a disposizione. Dopodiché si può andare sul sito www.websolidale.org e inviare questi elaborati, uno di questi elaborati è i propri amici, i propri contatti via email. Per ogni elaborato inviato, Web Solidale donerà un euro per questi tre progetti di Abita alla Stella. Ci sono altri modi per sostenere, quindi attraverso i soliti canali di Liban piuttosto che il conto postale, eccetera. Ci sono però alcune iniziative già organizzate nei centri commerciali, quindi ad Orio Center c'è la vente dei presepi, c'è un servizio di confezionamento pacchi sia all'Iper di Seriate sia al centro commerciale di Curno e ci sono tante altre iniziative qui e là, un po' nascoste magari, c'è la capanna per esempio sul Sentierone, ci sono i concerti del Coro Idica, ecco lì ci sarà anche una raccolta di fondi, appunto sempre per questi tre progetti in missione.